Sono queste qua le giornate in cui veramente mi metto a sperare con tutto me stesso che la Juventus possa raggiungere la qualificazione in Champions League perché noi forse lo dimentichiamo troppo spesso in questo momento in cui non si gioca, non siamo abituati a giocare così poco dopo un anno che causa Covid ci ha costretto a giocare praticamente due o tre volte a settimana ecco, in questi giorni un attimo di relax, di riposo, dalle notizie che ieri c'è stata una discreta bomba e ne abbiamo parlato e ovviamente alle preparazioni, alle partite io guardo il City che vince in casa contro il PSG stasera c'è il Real Madrid che prova ad andare nuovamente ai finali Champions la prima senza Cristiano Ronaldo ma c'è anche il Chelsea che vuole arrivarci e penso wow sono quelle lì le serate, sono quelle lì le partite che tutti i tifosi vogliono vedere sono curioso e speranzoso di capire quando la Juventus potrà arrivarci nuovamente poi guardi la partita di ieri sera, la partita del City è stata bellissima con anche il PSG che per qualche momento ha fatto la partita ma il City, il City di quest'anno ragazzi difende in una maniera incredibile e poi gioca, palleggia, riparte, si diverte, è bello da vedere è bello da vedere e difende anche bene penso che sia veramente il connubio tra due filosofie tifavo per Mbappé nella Champions League, l'unico che è il mio tifo era Mbappé e l'idea che magari qualche italiano come Ken, Verratti e Florenzi potessero poi arrivare a vincere la Champions perché tifavo Ken non mi dispiaceva però lo dissi forse da Sikwolf e Gabbo il mio favorito era Guardiola, a maggior ragione lo dico adesso e questo City in questo momento sembra veramente la squadra a battere poi stasera ci godiamo quell'altra ci godiamo quell'altra con la consapevolezza però guardando anche un po' la panchina del City, i titolari del City che per raggiungere quei livelli lì ce ne vorrà anzi, anzi, non è vero che ce ne vorrà e sono dell'idea che per raggiungere i livelli del City che in questo momento magari è la squadra più chiacchierata giustamente da tutti i tifosi di calcio perché chi ama il calcio vuole vedere queste partite qua di Champions League dove si affrontano le squadre che sono arrivate in fondo e che meritano di stare lì nelle prime quattro io credo che sia doveroso dire che la Juventus e qualsiasi altro club italiano a quel livello lì del City non ci arriveranno non dico mai perché mai non è vero ma nei prossimi 10, 15, 20 anni cosa intendo? con calciatori così forti così tecnici così unici guardate la panchina del City guardate i costi della panchina del City guardate gli ingaggi della panchina del City e guardate i titolari che se giocano vuol dire che sono migliori delle riserve per dire ieri Cansello non ha giocato all'andata Aguero, Sterling Gabriel Jesus fatto zero minuti cioè c'è una ricchezza di giocatori forti che è impressionante è veramente qualcosa di impressionante e noi non ci possiamo arrivare lì perché il City lì si è arrivato con sì la programmazione sì la bravura di migliorarsi di anno in anno ma investimenti che sono impossibili in questo momento per qualsiasi squadra italiana quindi ad una dimensione di calcio così probabilmente non ci si può arrivare a fare un tipo di gioco come quello lì probabilmente non ci si può arrivare ci si può avvicinare al livello perché non dimentichiamoci che l'anno scorso comunque Guardiola esce con il Leone esattamente come con la Juventus tra l'altro in gara secca perché la Final 8 all'Ismone era in gara secca quindi forse ancora peggio la consapevolezza però di poter giocare un calcio di un certo tipo ci deve essere non come quello lì del City di Guardiola perché Guardiola ci ha messo anni anni e anni ad arrivare a quella roba lì ma andando a prendere i giocatori idonei ai progetti tecnici ascoltando gli allenatori è per questo che io in questo momento da tifoso giuventino ne abbiamo parlato ieri secondo me l'allenatore sarà ancora una volta Massimiliano Allegri con un occhio di riguardo a Simone Inzaghi che è un po' un'idea che mi ronza in testa ma secondo me tutti gli indizi portano a Allegri Inzaghi è più una scelta di istinto che ho nel mio cervello io penso a la guida tecnica attuale andrà Pirlo in bilico per via della seconda parte disastrosa di stagione che ci ha portati qua a non sapere nemmeno se ci qualificheremo a quella Champions League tremendo pensare che dopo nove anni forse non andremo nemmeno a partecipare con la speranza di arrivare a giocare quelle partite delle prime quattro tremendo ne dico un'altra la dirigenza in bilico addirittura voce su su Paratici al Baere Monaco boom così da niente sarebbe clamoroso forse più di di Mourinho alla Roma ancora più clamoroso veramente allucinante sarebbe qualcosa di assurdo tutta l'area dirigenziale in scadenza non si sta muovendo niente il presidente Andrea Agnelli che al momento è saldo lì però lo sappiamo che la Juve fino a che non ci sono le matematiche finché non c'è la certezza di quello che è stata una stagione certe cose non le fa non si muove lo dicevamo anche ieri quindi Pirlo dirigenza allenatore giocatori Pirlo allenatore presidente tutti lì sul filo del rasoio perché si sta aspettando soltanto l'ufficialità di quella che sarà la prossima stagione della Juve e poi potrebbe accadere di tutto ragazzi in questo momento è tutto impronosticabile perché ovviamente anche ragionare su Allegri che ritorna Allegri ritorna ma con quali giocatori con quale dirigente con quale presidente quindi tutti gli indizi portano ad Allegri poi magari si dimetta Agnelli rinnovano Paratici quindi la voce Allegri se ne va e magari rinnovano Pirlo perché davvero in questo momento può accadere qualsiasi cosa le voci ad oggi più logiche ci dicono questo Agnelli che rimane o addirittura Nasi al posto di Agnelli messo da Elkan che comunque avrebbe una corsia preferenziale per il ritorno di Allegri con via Paratici via Pirlo e si ragiona sui giocatori tra l'altro il video di oggi dopo sei minuti che parlo e in questo momento vi invito a mettere un mi piace a questo video che non ve l'avevo ancora chiesto cerchiamo di arrivare almeno a duemila tremila like come al solito ci andiamo a focalizzare sui giocatori sui giocatori perché è questo no alla fine in campo ci vanno i giocatori l'allenatore ci mette l'identità di gioco l'idea di gioco la fase offensiva la fase non possesso pale e quella di possesso queste sono le cose che ci mette l'allenatore poi deve stimolare i giocatori deve cambiare l'inerzia della partita capire quando è il momento giusto di cambiare qualcosa capire qual è il sistema di gioco adatto per i giocatori che ha a disposizione questo fa l'allenatore però poi lo stop sbagliato il gol sbagliato il passaggio sbagliato il gol subito su una punizione dell'Udinese con ancora la palla in mano i giocatori che non vanno in barriera quelli che devono marcare l'esterno di destra e sono due contro uno nessuno dei due lo guarda e quindi l'esterno di destra può fare quello che vuole quindi bisogna scalare il centrale va a fare il terzino il terzino all'esterno ancora non stanno guardando che non hanno capito e quindi il portiere prende anche gol sul suo palo quelle cose lì quelle cose lì che non accadranno mai alla Juventus la Juventus non potrebbe mai prendere un gol del genere contro l'Udinese in un momento così clamoroso nel quale non sappiamo nemmeno se ci colifichiamo in Champions con magari le due squadre sulle quali bisognava allungare che avevano appena pareggiato e quella dietro aveva vinto e quindi ti aveva superato no beh questo è assolutamente inconcepibile la Juve non potrebbe mai fare una roba di questo tipo ok e i nostri giocatori migliori senza ombra di dubbio sono Chiesa Ronaldo De Litt Di Bala Quadrado quest'anno Danilo ci voglio mettere anche Artur per fiducia perché secondo me ha i mezzi per essere veramente un ottimo giocatore sono questi meno male sono questi e là davanti che siamo pochi perché Di Bala Ronaldo e Morata sono queste tre le punte da Juve sono poche 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 sono tutti in discussione tutti in discussione Morata non è nostro dovremmo capire cosa fare secondo me il riscatto è illogico è illogico un altro anno di Morata invece con l'aumento del prestito e puoi ragionare alla fine di quell'anno lì perché poi l'Atletico non ha tanti motivi per dire alla Juve no guarda allora ce lo riprendiamo perché l'Atletico te l'ha fatto capire fuori al progetto tecnico farà di tutto per venderlo e potrebbe addirittura provare la Juventus ad abbassare il prestito di Morata l'anno prossimo però il problema di fondo è ne abbiamo tre tre e tutti e tre sono in assoluta discussione uno perché non è tuo e gli altri due perché sono in scadenza e uno perché è uno dei più forti della storia del calcio che però purtroppo è arrivato a fine carriera perché è un classe 85 e bisognerà capire cosa fare con questo qua e se lo fai giocare nella sua dimensione ideale cioè la Champions con quale allenatore con quale squadra questo è un bel punto quell'altro invece è Paolo Di Bala l'altro è Paolo Di Bala e anche qua è in scadenza lo si vuole rinnovare oppure no perché è un bel punto interrogativo anche questo è vero che gli hanno proposto la cifra che aveva detto Agnelli che lo mette nei primi 20 al mondo per ingaggio o è vero quello che dice Di Bala che ancora non si è mosso niente c'è una bella guerra all'interno della Juventus a me non interessa sapere qual è la verità sicuramente le notizie che arrivano da fonti anche magari molto affidabili come possono essere quelle le voci di Romeo Agresti che solitamente tutto quello che sa ce lo dice ci fa capire che c'è un po' di confusione al di là di voler ascoltarle proprio tutte che poi lì non si interseca mai niente io sono sempre stato uno che ci metteva qua davanti alla delle camere faccia dei ragionamenti mi è capitato però tre volte di aver avuto delle informazioni che andavano a darmi delle conferme e ve le avevo dette ve le avevo dette qua su youtuber era l'anno di di Sarri ok la prima appunto era che sarebbe stato Sarri l'allenatore della Juventus il primo campanino d'allarme ce l'ho a intuizione nella conferenza stampa di Addio di Allegri e poi invece quando tutti parlavano di guardiolo di top manager ho iniziato a dirvi ragazzi mi hanno detto che sarà Sarri vediamo un attimo ed è stato Sarri la seconda è stata De Ligt quindi nella seconda annata nel momento in cui tutti lo davano per certo per fatto a Barcellona mi avevano detto che De Ligt era già un giocatore da Juventus e quindi ero molto tranquillo di quella cosa lì e l'ho detta e si è avverata la terza invece è stata una cantonata tremenda che è stata di bala al PSG con tanto di biglietti aerei già promotati per visite mediche e giro a Parigi questa cosa poi non si è concretizzata però col seno di poi mi viene a dire che Di Bala è sempre stato un po' il giocatore che nella testa della Juventus poteva essere il sacrificato c'è stato proprio quell'anno lì oltre al PSG che alla fine non si è confermata con Manchester United era praticamente imbastito lo scambio con Lukaku che col seno di poi pensare a Ronaldo e Lukaku nella Juve dato che adesso un centravanti nostro tra l'altro ci manca sarebbe stata tutta un'altra storia poi vedendo come è andata Lukaku all'Inter e poi è stato incastrato col Tottenham senza mai chiudersi e poi c'era appunto questa voce PSG però quell'anno lì Di Bala è stato più di una volta messo sul tavolo dei partenti nella lista dei partenti l'anno scorso cioè quest'estate no vuoi perché il covid aveva cambiato tutto c'era soltanto un mese di mercato Di Bala era stato il miglior giocatore della Serie A dell'anno scorso ma sono veramente dell'idea che la Juventus abbia comunque cercato una sistemazione per Di Bala in questa mente in cui gli manca soltanto un anno di contratto io temo che la Juventus farà di tutto per venderlo e che lo incastrerà in un qualsiasi scambio che possa portare un giocatore di un certo tipo dall'altra parte come vi dicevo nel video che ho caricato ieri con chi conosce con Beppe secondo me anche Cristiano Ronaldo è destinato a salutarla a Juventus al di là della qualificazione Champions al di là dell'eventuale qualificazione Europa League al di là dell'allenatore secondo me Ronaldo ha concluso il suo percorso alla Juventus si sta aspettando soltanto il momento adatto per dare questa notizia per sua volontà per sua volontà io sono queste sono tutte sensazioni non ci sono informazioni non ci sono soffiate in questo momento come vi dicevo c'è l'assoluta incertezza sotto tutti i punti di vista dalla dirigenza all'ultimo dei giocatori della panchina secondo me però andrà così Agnelli Onasi a questo punto dato che è un nome chiacchierato come presidente niente paratici non ho idea di Nedved come verrà inserito all'interno dell'organigramma dipenderà anche eventualmente dal ritorno di Allegri se ci sono davvero stati scresti tra Nedved e Allegri perché si parla tanto di paratici ma di Nedved sempre un po' in seconda linea ma non escludo anche la partenza di Nedved il ritorno di Allegri l'addio di Cristiano Ronaldo e anche l'addio di Paolo Di Bala lo so che sembra follia in questo momento queste sono le mie sensazioni queste sono le relazioni sapete che poi tornano fuori però ragazzi oggi è il 5 maggio e so che è una data particolare per gli Juventini quindi buon 5 maggio a tutti ma non siamo mica tanto distanti dal momento in cui verranno prese le decisioni quindi in questo momento ve la butto lì la partenza di tutti e due di Di Bala e di Ronaldo il ritorno di Allegri e la rivoluzione l'atto dirigenziale e forse non presidenziale questa è un po' è la scommessa che faccio insieme a voi e secondo voi Di Bala e Ronaldo rimarranno entrambi se ne andrà uno se ne andranno tutti e due perché se poi se ne andranno tutti e due già ce ne manca uno bisogna prenderne tre e lì vi voglio il mercato il mercato si è già mosso qualcuno probabilmente lo sta già preparando paratici ma sarà lui poi a finirlo vediamo un po' attenzione perché non vorrei far passare il messaggio sbagliato questo che vi ho detto non è quello che vorrei io questo è quello che credo avverrà perché secondo me davvero la Juve è davanti a un momento in cui vuole ripartire ancora una volta con un nuovo allenatore per l'ultima volta perché sarebbe il quarto allenatore in quattro anni anche se dovesse essere comunque allegri è stato esonerato e richiamato quindi quattro volte che si riparte da zero con un allenatore quindi credo che questa sia un'epurazione che vuole fare la Juventus per ripartire con dei giocatori più giovani ok che possano essere più attaccati al progetto e che possano essere un domani futuri campioni lasciando partire quello che in questo momento è assolutamente il campione anche perché lui stesso probabilmente vuole andare via cioè Cristiano Ronaldo perché non è interessato eventualmente rimanere un ultimo anno a una Juve in ricostruzione che non gli dà garanzie per l'immediato ma gliele darebbe per il futuro ma purtroppo il tempo arriva per tutti anche per uno come Cristiano Ronaldo dato che è l'ultimo anno di Cristiano Ronaldo quindi bisognerebbe poi ragionare sul rinnovo che mi sembra pura utopia soprattutto perché bisognerebbe costruire una squadra veramente in brevissimo tempo e per quanto riguarda Di Bala non lo so c'è questo sentore che non ci sia mai il punto di incontro a tale party non mi sembra che la Juventus sia particolarmente interessata a fare un era Paolo Di Bala ecco questo è il punto di fondo quindi questo non è quello che voglio io perché per come ragiono io i giocatori forti li tengo sempre tutti tra re sia Ronaldo che Di Bala questo è più il sentore quello che credo verrà